Ringraziamo innanzitutto il CESPI per questa magnifica opportunità che ci dà di fornire qualche contributo, speriamo non particolarmente modesto, per definire alcuni nuclei di riflessione per il futuro degli aiuti. Il sistema degli aiuti è in effetti un sistema che non ha subito grandi trasformazioni sia nel senso dei veicoli, degli strumenti finanziari, sia nel senso delle prassi e che rischia di venire considerato come superato, allora quando è solo in qualche modo forse obsoleto proprio in alcune sue caratteristiche. La prima delle domande che ci è stata fatta è quale può essere la ragione per sostenere ancora la razza o la giustificazione degli aiuti allo sviluppo. Certamente dal punto di vista dei Paesi donatori, dal punto di vista dei Paesi che in qualche modo sin dagli anni 70 si sono impegnati in questa pratica, a seguire la conferenza di Londra e poi con tutti gli altri strumenti, soprattutto del comparto multilaterale, ma non solo, e definiti nel contesto dell'Ox ed Ac, una delle ragioni è quella della conoscenza. Per i Paesi donatori, la cooperazione e lo sviluppo è uno straordinario elemento, uno straordinario laboratorio sociale e intellettuale, che consente di comprendere molto meglio la realtà delle condizioni del pianeta. Basterebbe pensare alle prassi del quotidiano degli operatori sul terreno, il comparto delle ONG, le ONG che fanno ricerca, ricerca operativa, ricerca e sviluppo, i grandi centri di ricerca, sono tutte istanze che non potrebbero esistere senza un contatto diretto con la microfisica che solo il terreno può offrire e non potrebbero produrre quegli elementi di stimolo e di riflessione che invece hanno caratterizzato gli ultimi 40-50 anni di dibattito non solo sullo sviluppo, ma anche sulle politiche internazionali e sul futuro del mondo. Oggi viviamo due grandi crisi, sono di grande attualità, quella della pandemia del Covid e dagli anni almeno 90 ha avvicinato la grande crisi dell'ambiente globale e sono due fenomeni di importanza capitale che hanno trasformato e stanno ancora continuando a trasformare il mondo e per i quali i sistemi di cooperazione, i sistemi di conoscenza legati alla cooperazione e allo sviluppo, io ritengo siano fondamentali e siano di grandissima importanza ancora oggi. La seconda domanda era qual è l'esperienza forse di riferimento che potrebbe essere interessante preservare per quanto concerne la cooperazione italiana. Io credo che sicuramente le politiche, i grandi programmi di vaccinazione, non solo della cooperazione italiana, ma anche sono tra i programmi che hanno dato i maggiori risultati, i maggiori impatti, sono indiscutibili e sono purtroppo anche loro, a loro volta, di grande e drammatica attualità. E poi questo grande sogno, tra l'altro legato a un paese a cui siamo particolarmente affezionati, che è la Bolivia, del seguro universal, quindi di mettere a disposizione anche dei soggetti meno sostenuti, un quadro di assistenza sanitaria universale, è una delle prassi e una delle linee di programma più importanti e più efficaci nei quali l'Italia si è impegnata. Per quanto riguarda la domanda relativa alla possibilità di introdurre qualcosa di nuovo per la cooperazione del futuro, certamente è ancora una volta riferita alla ricerca e alla conoscenza. Sicuramente i sistemi curriculari sono deficitari, stiamo parlando della scuola, della scuola media e delle scuole superiori, perché è impensabile che ancora oggi i quadri di studenti delle varie regioni del mondo che ancora si affacciano alla conoscenza siano caratterizzati da sistemi di sapere perfettamente autocorrelati. Oggi, per dirla in termini molto semplici, un bimbo tunisino non conosce nulla della storia della Germania, ma soprattutto un bimbo della Germania non conosce nulla della storia dell'Africa. I due, con l'avvento poi dei grandi sistemi di comunicazione di massa, i due quadri sono spesso condizionati da molteplici e profondi equivoci e pensiamo che il sistema scolastico, l'impianto scolastico, dovrebbe oggi comprendere elementi di cooperazione allo sviluppo per far capire che il mondo è una realtà molto più complessa e molto più grande di quella che normalmente viene rappresentata e che dietro molte idee ci sono in realtà alcuni pregiudizi. Da ultimo e per concludere una nozione che deriva dalla nostra esperienza in Africa occidentale. L'Africa occidentale è interessante a vari livelli, ma soprattutto perché è il quadro geografico dove più si è investito per lo sviluppo con i minori effetti, con i minori impatti. Cioè è la regione che più ha ricevuto apporti finanziari, pur evidenziando sostanzialmente quasi solo i limiti degli aiuti allo sviluppo e producendo spesso una pletora di apporti del terziario a livello urbano e dando molto poco al cosiddetto rural pur, il povero rurale, che era in realtà il maggiore beneficiario, il maggiore destinatario del sistema degli aiuti. Io ritengo che questo sia dovuto al fatto che in Africa occidentale, regione isolata, regione caratterizzata dalle maggiori endemie, dai maggiori fattori di pressione ambientale, sanitario e recentemente politico, di destabilizzazione, sia più evidente il fatto che gli aiuti debbono essere legati a una lettura ecologica delle relazioni e dei processi produttivi. L'Africa occidentale nel corso della propria storia era un magnifico sistema perfettamente equilibrato, retto da grandi cicli e da grandi derive di attività e di azione delle sue popolazioni in un continuo scambio regolato da processi naturali, con una base ecologica perfettamente definita e conservata, le transumanze, le grandi transumanze, che scorrevano secondo i cicli di pioggia dal nord al sud della regione, i sistemi di scambi tra agricoltura stanziale e sistemi agropastorali e poi quelle che erano le linee di migrazione dal nord arido al sud costiero e pluviale e anche le grandi crisi dell'ambiente a livello regionale con i cicli di siccità che hanno caratterizzato per molti anni la regione saheliana, la parte settentrionale di più fragile. Riteniamo che una politica di integrazione economica e di cooperazione regionale oggi potrebbe essere uno dei grandi strumenti di maggiore efficacia degli aiuti internazionali e riteniamo che questo potrebbe farsi attraverso reti, reti di associazioni professionali, reti di organizzazioni contadine, per cercare di raggiungere in maniera più diretta e più armoniosa i destinatari finali degli aiuti e non fermare gli aiuti a livello dei grandi centri urbani o delle capitali. È un oggetto che proprio pochissimi giorni fa è stato discusso direttamente con il direttore dell'Agenzia degli Aiuti della Francia, la FD, e mi sembra che attorno a quel tavolo ci fosse ampio consenso sia sulla necessità di raggiungere i veri destinatari, sia sulla necessità di avere una lettura molto più profonda della base ecologica delle società nella fattispecie africane e del fatto che il disegno e la strategia degli aiuti non possa prescindere da un approccio di ecosistemi che è poi la base di tante crisi ambientali che riguardano anche le nostre società occidentali.